Entra, chico. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Abbiamo che matare per che io faccio questo. Te lo avverti. Al fin! Te lo buscaste. Vale. Me toco. Che incredibile decepcion. Inutile. Te aburre. Tu te esớ. Yek. Vero! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Sì, stai bene. Ven. Recoge le cose. Andiamo. Non stava pronto. Non lo stai, ma non abbiamo opzione. Devi migliorare. Sì, signor. La montaña. Va a essere un viaggio molto lungo. Sì, però uno importante. Eh. C'è questo? Sì. 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 Sì.